Buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Buonasera a tutti. Sono contento quando c'è un po' di partecipazione. Buonasera a tutti. Abbiamo fatto una conferenza di Darwin Day qualche settimana fa con il professor Talma Pievani dell'Università di Padova. Oggi abbiamo il professor Alessandro Grossato, orientalista, storico delle religioni, studioso di geopolitica e professore all'Università Teologica di Padova. Oggi l'argomento è quello che si vede nella locandina, il buddismo, forma storica dell'ateismo asiatico. Di solito chi introduce, chi presenta, dice qualche parola sull'argomento. Io invece sono venuto alla conferenza perché di questo argomento non so assolutamente nulla. Quindi aspetto con grande attesa di sapere qualche cosa dall'amico Alessandro con cui ci conosciamo da molti anni e che sono contento che abbia accettato il nostro invito. Prima di passare la parola ricordo solo che la prossima conferenza sarà fra circa un mese, il 17 di maggio. Avremo la giornalista finlandese Lisa Limatainen che presenterà il suo libro sul titolo L'Arabia Saudita, uno stato islamico contro le donne e i diritti. Quindi vi invito a segnare già sull'azienda il 17 maggio come è data. Non qui, sarà presso una libreria UBIC, Riviera dei Ponti Romani, qui a Padova. Buon ascolto e passo la parola al professor Gossano. Grazie, grazie. Ringrazio la vostra organizzazione e in particolare il dottor Massimo Albertin di questo invito. Eravamo compagni di scuola alcuni decenni fa e quindi è un'antica amicizia. L'occasione è sempre, secondo me, positiva per presentare o parlare di elementi culturali a volte in comune e in un certo senso, nel senso che errore o non errore, questo poi cercherò di spiegarlo strada facendo, seppure nei pochi minuti di una conferenza. Il fatto è che nella bibliografia, anche di livello universitario, ma persino se andate a consultare la Treccania online, l'Ecleropedia Treccania online, il buddismo viene definito una religione atea o comunque ateistica, usano aggettivi di questo tipo, un po' sbrigativamente in effetti perché, come vedremo, le cose non stanno esattamente in questi termini, nel senso che l'ateismo, così come lo conosciamo noi occidentali, è comunque una cosa molto diversa dalle forme asiatiche dell'ateismo, anche se non da tutte, adesso comunque vedremo, non dico nei dettagli, ma comunque vedremo, e quindi a volte attribuire caratteristiche di un tipo o di un altro a forme della cultura, in particolare quella spirituale dell'Asia, costituisce causa di incomprensioni e di deformazioni di vario tipo. Ad esempio, nell'Ottocento, ma anche nella prima metà del Nove, il buddismo è stato spesso e volentieri definito principalmente come una filosofia. E devo dire che questo errore antico, e anche questo permane ancora oggi, molti vedono nel buddismo solo una filosofia. Ora, in Asia è molto difficile trovare filosofie analoghe a quelle che noi conosciamo in Occidente, e non toglie che ci siano indubbiamente delle forme filosofiche di pensiero, ma ci sono poi tanti puntini, ci sono tante differenze. Le cose sono un po' cambiate negli ultimissimi decenni, direi dagli anni 90 in poi, forse anche un po' prima, soprattutto da quando si è cominciato a tradurre in lingue occidentali le opere di studiosi, anche contemporanei, ad esempio giapponesi, che si sono occupati del buddismo, sia del buddismo giapponese che di altre forme del buddismo asiatico, dal loro punto di vista, cioè da asiatici, da giapponesi, da cinesi, e d'altro. Ci si è allora accorti con un certo stupore inizialmente, poi man mano ci si è abituati, almeno a livello di specialisti, e a riconsiderare un po' la cosa, le cose, a vari livelli, in vari ambiti, e questo ha influenzato positivamente gli studi anche in ambito europeo, statunitense, eccetera. Ciò non toglie che effettivamente il discorso dell'ateismo in riferimento al buddismo può essere stimolante, interessante, anche per chi ha fatto qui da noi in occidente dell'ateismo una scelta, come dire, sì, una scelta importante, una scelta personale, e in effetti, come vedremo, ci sono degli elementi che potrebbero far riflettere al riguardo in varie direzioni, poi ognuno è libero di trarre le conseguenze che vorrà, io mi limiterò strettamente a esporre i fatti, gli elementi, poi i giudizi, le reazioni, sono squisitamente personali. Allora, Gautama, principe scita della stirpe dei Sakya, secondo la tradizione leggendaria, ma ormai dal punto di vista degli studi contemporanei, si è abbandonata per fortuna un'altra ipotesi estrema, che era quella che portava anche molti miei colleghi a negare addirittura l'esistenza storica del Buddha. Soprattutto negli anni 70-80, io ho avuto diversi colleghi con i quali ho condiviso anche la missione, ad esempio, archeologica in Nepal, e alcuni di loro dicono, ma il Buddha non è mai esistito. Queste sicurezze si sono un po' sgretolate, strada facendo, quindi la maggior parte degli studiosi, non tutti, gli studiosi non sono mai d'accordo in realtà, un po' in tutti gli ambiti, non solo quelli umanistici, ma anche delle cosiddette scienze esatte, specialmente in questa fase storica, e si è convenuto che comunque qualcuno c'è stato, forse non era un principe, non era di stirpe nobiliare, era comunque un'eremita, un sadhu, un vanaprastin, qualcosa del genere, che viveva asceticamente e che ha avuto comunque un'influenza notevole a cavallo del VI o del V secolo a.C. perché, secondo la tradizione, la nascita e l'opera del Buddha, che vive circa 83 anni, un'ottantina d'anni, diciamo, il Buddha raggiungerebbe l'illuminazione intorno ai 35 anni e poi ancora per un po' avrebbe, per 45 anni circa, insegnato la sua dottrina. La tradizione, dicevo, lo colloca come nascita soprattutto nella seconda metà del VI secolo a.C. Gli studi storici contemporanei tendono ad avvicinare almeno di un secolo la nascita, l'opera e la morte di Gautama. Gautama vive un periodo, ammesso che sia il VI ma anche il V secolo a.C., che molti storici delle religioni, a cavallo fra 8 e 900, hanno definito a più riprese il secolo assiale. Secolo assiale perché? Per varie ragioni, ma soprattutto nell'ambito degli studi storico-religiosi, perché in effetti noi assistiamo in Eurasia, in particolare, a una serie di grandi e importanti cambiamenti religiosi di vario ordine e di vario tipo. Ci sono nuove figure di fondatori di nuove forme o riformatori di vecchie forme religiose e Gautama, detto il Buddha, è certamente fra questi. C'è da chiedersi, ma questo lo vedremo più avanti, come mai nascano personaggi di questo tipo? Mi sposto direttamente e mi limito all'area indiana. È un periodo in cui molte cose cambiano nell'ambito dell'induismo, che gli specialisti definiscono bramanesimo per quel periodo. Bramanesimo perché? Perché i bramani, i bramini, ne vediamo qui uno contemporaneo in questa immagine, detenevano la massima autorità sacerdotale nell'ambito dell'induismo. Era una forma di induismo soprattutto rituale, questo è un sacrificio al fuoco, sta versando con un cucchiaio sacrificale del ghi, del burro chiarificato sulla fiamma, e certamente all'epoca del Buddha, poco prima o poco dopo, poco prima probabilmente c'è la nascita del jainismo, o è quasi contemporaneo, anche lì le date nel suo continente indiano sono sempre difficili da determinare con esattezza. Vedremo che ci sono altre correnti strane, con elementi sia di ateismo che di materialismo, o di entrambi, ma probabilmente è anche una reazione, sì, al ritualismo bramanico, quindi a una sorta di sclerosi, diciamo, dell'induismo antico, ma forse è anche una reazione ad un'altra reazione, quella che comporta la nascita della Bhakti, e cioè di questi movimenti devozionali sia in ambito Vishnuita che Shiva Ita, e cioè un culto fortemente intenso e personale, ma anche collettivo, dedicato a alcune figure, in particolare del pantheon hindu, soprattutto a Shiva e a Vishnu e alle relative consorti. Evidentemente qualcuno, qualche intellettuale indiano, reagisce a entrambe le situazioni e noi siamo riusciti a ricostruire in parte quello che è, diciamo, la carriera intellettuale del Buddha, perché in molte opere del canone, pali soprattutto, sono riportati i nomi di almeno sei maestri del Buddha, qualcuno dice dieci, ma ci sono delle incertezze su alcuni nomi, su alcune scuole, e certamente due o tre di questi maestri appartengono a quella che sarà più tardi definita, la scuola dei Charvaka, dei Locaiata, o Nastika, definizioni nelle quali ci interessa soprattutto l'ultima, perché Nastika vuol dire coloro che negano, e che cosa negano? L'esistenza degli dèi. Uno dei maestri di cui ci è rimasto il nome del Buddha, Agita Chisakambali, addirittura negava la possibilità di una vita dopo la morte, e quindi negava completamente anche la dottrina della trasmigrazione delle anime, che come voi sapete è fondamentale un po' in tutte le tradizioni dell'India, buddismo fra l'altro compreso. Bisogna sempre stare attenti quando parliamo di ateismo e materialismo in ambito indiano. Comunque è interessante, ad esempio, questo, perché le opere di questi autori, alcuni di quali furono bruciati e vivi addirittura, perché considerati degli eterodossi per definizione, le opere non ci sono rimaste, però qualche autore, qualche apologeta hindu, ha conservato soprattutto dei componimenti poetici, ad esempio questo, che non si sa a chi debba essere attribuito, che recita, finché la vita è tua, vivila con gioia, nessuno può sfuggire all'occhio indagatore della morte. Una volta che il nostro guscio sia stato bruciato, come potrà più ritornare? Quindi, come vedete, è davvero un'enunciazione che dovrebbe rendere entusiasta qualunque materialista ed ateo, anche nostro contemporaneo. L'Asia, e l'India in particolare, è ricca di tutto. Potete trovare davvero qualunque cosa è il contrario di essa, a livello artistico, a livello filosofico, a livello religioso, storico, politico e culturale in senso lato. Quello che è sempre difficile, però, a volte quasi impossibile, è capire se davvero noi stiamo comprendendo quello che leggiamo, se davvero stiamo comprendendo quello che studiamo. Accennavo prima ad alcuni problemi relativi al buddismo, la storicità o meno del Buddha, se davvero è una forma di ateismo, se il buddismo è solo una filosofia o è anche una religione, o è solo una religione o non è neanche quello. In India i problemi sono immensi e devo dire la verità che uno dei motivi per cui amavo prima ancora di studiarla, ma soprattutto dopo che ho cominciato a farlo, l'India, è proprio questa difficoltà di capire. Una difficoltà che resta poi nel tempo, anzi si arricchisce, si complica sempre di più, e quello che dà veramente fastidio ormai a me, ma anche a molti miei colleghi, indubbiamente, è la semplificazione con la quale molti si avvicinano a queste cose ed è certamente giustificato, il grande pubblico dei non addetti ai lavori non sono molto giustificati gli indologi, i buddologi e gli storici delle religioni perché anche loro, ahimè, applicano non solo vecchi cliché ottocenteschi e novecenteschi nella loro manualistica, soprattutto, che d'altra parte è semplificatoria per definizione, ma anche nei contributi originali contemporanei spesso sbagliano il bersaglio di diversi metri o addirittura chilometri. Questa è una miniatura indiana, mi interessa solo per rappresentarvi l'immagine di un qualunque sadhu, di un qualunque asceta nella foresta, sulla sua pelle di leopardo o di tigre, con lo yagno pavita, simbolo della nascita doppia dei nati nelle prime tre caste, perché? Perché questi potrebbe essere benissimo una raffigurazione del Buddha sotto un albero, o in mezzo comunque a degli alberi, Buddha che dedica gran parte della sua vita dopo la rinuncia alla vita, diciamo, profana e normale, fosse egli ricco e nobile o un semplice e più semplice appunto appartenente magari alla casta dei commercianti, dei vaisha cosiddetti, ma questo ha poca importanza al nostro fine, poca importanza perché, diciamolo subito, il buddismo, pur dando grande rilievo alla ipotesi di un Buddha storico, come fa il cristianesimo con la figura di Gesù Cristo, diversamente dal cristianesimo ritiene che di Buddha ce ne siano stati infiniti nelle epoche più antiche e che infiniti ce ne saranno nelle epoche future. Quindi un Buddha vale l'altro e anche quando normalmente, anche nei testi, nelle dottrine, nell'esposizione delle dottrine, si parla del Buddha, non si intende mai veramente il Buddha storico, sia più o meno veramente esistito, si intende proprio l'idea del Buddha, cioè del Buddha come liberato, come illuminato secondo la dottrina, appunto, buddista. Per molti anni il Buddha segue, appunto, le vie di vari maestri, ho accennato ai materialisti e agli atei, ma anche le scuole dello yoga, di varie forme di yoga, forse anche le prime forme del tantrismo hindu, e certamente si dedica a esercizi ascetici potenti, tanto è vero che in questa bella immagine dell'arte del Gandhara, quindi del nord-ovest del subcontinente indiano, viene raffigurato, non abbiamo tantissimi esempi, ma ne abbiamo alcuni di molto belli come questo, arriva a una tale consunzione fisica, nonostante egli abbia solo 35 anni, da sembrare addirittura quasi un vecchio, i testi recitano che i suoi occhi erano sprofondati come delle pozzanghere, talmente oscure che non si vedeva neanche la luce della pupilla, che la colonna vertebrale si poteva toccare attraverso la pelle dell'addome, perché ormai si intravedeva quasi in trasparenza, quindi si era ridotto davvero a un lumicino, diciamo. Fino a quel momento lui è seguito da dei compagni, da dei seguaci, spesso, ancora oggi, il resto nel subcontinente indiano, quando qualcuno dimostra di occuparsi seriamente di problemi inerenti alla liberazione e a quello che essa richiede, quindi per seguire delle vie realizzative, questa è la definizione, corrente anche in ambito storico, religioso, occidentale, beh, l'ammirazione e l'esempio raccolgono intorno a lui una folla piccolina all'inizio, ma poi può diventare più grande. All'inizio non aveva tantissimi compagni, ma certamente fino a quel momento sono ancora con lui. Ma arrivato a quel punto, il Buddha, quello che sarà il Buddha, Gautama, dice basta, io sono rimasto deluso da tutti gli insegnamenti che ho ricevuto, li ho perseguiti fino in fondo, non ho ottenuto alcun risultato e adesso voglio fare a modo mio e allora naturalmente i compagni lo abbandonano, ritorneranno dopo. Cosa fa? Raggiunge una zona vicina a un villaggio, sceglie un albero sotto il quale sedersi a meditare, una delle abitanti del villaggio come avviene sempre, ancora oggi in India, viene a portargli dell'acqua, del cibo, lo ristora, quindi lui finalmente fa un pasto, diciamo, decente. Secondo la leggenda non è un abitante del villaggio ma è addirittura la ninfa dell'albero, una specie di driade che esce dall'albero e lo nutre, ma le leggende sono importanti per altri aspetti che qui purtroppo non ho la possibilità di approfondire, ma non ci interessano in questa circostanza questa sera. Quello che è interessante è che lui riguadagna una situazione di equilibrio psicofisico e dedica quel pomeriggio ma soprattutto alla notte a meditare intensivamente. Sul tipo di meditazione che egli fa siamo informati dallo stesso Buddha, questo è il Masati Pattana Sutta, quindi una parte del canone Pali, del canone più antico, la questione del canone buddista è estremamente complessa e non sto adesso ad affrontarla neanche minimamente. Quello che è interessante è che probabilmente l'indicazione che ci dà qui il Buddha è in qualche modo direttamente riferibile o a lui o a personaggi che come lui più o meno in quel periodo facevano queste cose. Come avviene anche nell'induismo, ad esempio nel Raja Yoga di Patanjali, ma non solo, anche nel Jainismo, eccetera, eccetera, nel Sikhismo, più tardo. esistono varie tecniche per meditare e lo scopo è raggiungere uno stadio più alto che quello della contemplazione perché la meditazione riguarda sempre un oggetto in qualche modo esterno rispetto alla mente umana, un oggetto esterno che può essere esterno anche al corpo o all'interno del corpo e la contemplazione invece spezza del tutto qualunque legame con l'esterno esteriore, e l'esterno interiore diciamo così e sprofonda nel mentale a livelli che per noi è anche difficile riuscire a definire anche perché ma qui entreremo in una serie di problemi che non voglio neanche lontanamente affrontare questa sera. Avrebbe detto quindi il Buddha quindi un monaco lui per esempio essendosi recato nella foresta al piede di un albero o in uno spazio vuoto siede a gambe incrociate mantiene il corpo eretto e la consapevolezza vigile la consapevolezza è una virtù fondamentale per il Buddha per il buddismo consapevolmente inspira e consapevolmente espira già qui il fastidio in genere di un lettore occidentale parte subito questa è un'esperienza antica anche di conferenzieri o di divulgatori diciamo dell'arte o della letteratura o delle religioni dell'Asia e invece dovremo fermare subito la nostra attenzione perché la ripetizione è fondamentale in questo caso perché dà anche il ritmo di quello che si deve fare la scelta del respiro è fondamentale nel buddismo ma in realtà in tutte le vie realizzative dell'Asia e non solo dell'Asia si potrebbe accennare alle prapides di Empedocle ma sarebbe un lungo discorso andremo addirittura nell'antichità greca che era più vicina all'Oriente di quanto non sia oggi l'Occidente perché il respiro perché è un'attività che comunque dalla quale è difficile prescindere a livello corporeo c'è e distrae di per sé perché è alternata ma facendone all'oggetto dell'attenzione meditativa la si disciplina la si riduce la si controlla e può diventare persino uno spunto per entrare invece in una fase di profonda contemplazione respiro lungo respiro corto eh sì perché inizialmente il respiro può essere anche lasciato andare corto lungo a poca importanza poi un po' alla volta bisognerebbe arrivare a disciplinarlo inframezzare dei momenti di ritenzione del respiro fino quasi a annullare la respirazione corporea o comunque ridurla a una bava sottilissima quasi quasi impercettibile il perché il perché è difficile da spiegare ma proverò a accennarlo più avanti e la notte che li trascorre così e nella quale passa ovviamente da questa fase di meditazione a fasi di vera e propria contemplazione le attraversa tutte i testi del canone già di quello pali ma anche quelli successivi scritti in tibet cina in parte anche in giappone e altrove indicano varie tappe però a seconda dei testi possono variare e i testi stessi d'altra parte dicono che non è obbligatorio attraversare tutte queste tappe sinteticamente si possono anche accorpare scavalcare eccetera ma questo anche ci porterebbe lontano questa è un'immagine dell'arte del Gandhara anche questa ci rappresenta aniconicamente perché all'inizio la figura del Buddha non viene rappresentata l'albero che sarà quello della Bodhi cioè dell'illuminazione la figura del Buddha non c'è ma c'è un trono un trono regale da sovrano da principe anche se non era un principe all'origine lo diventa in senso spirituale con dei cuscini e attorno ci sono i demoni scagliati da Mara alla morte ci sono anche si intravedono le sue figlie le tre figlie che cercano di sedurlo un po' come le tentazioni di Sant'Antonio del deserto anzi probabilmente ci sono addirittura delle influenze anche letterarie che riguardano non solo Sant'Antonio del deserto ma anche altre figure di Santi Cristiani ma anche questo ci porterebbe lontanissimi quello che è interessante è soffermarsi sull'immagine dell'albero di questo elemento verticale perché il trono dove i cuscini faccio notare hanno delle forme vagamente lotiformi tutto questo allude a qualcosa di più profondo che uno storico dell'arte dell'India conosce bene perché fa parte del mestiere che per noi occidentali è solo un problema di stile o di rese come dire iconologicamente codificate e convenzionali invece no è qualcosa di più psicologico diciamo ma insomma alla fine di questa notte travagliata poco prima dell'alba o esattamente all'alba raggiunge la cosiddetta illuminazione tant'è che Buddha vorrebbe dire risvegliato illuminato ma su questo poi dirò da una radice Buddha che indica risvegliare svegliare ma anche capire e tante altre cose Ashwagosha nella Buddha Charita nelle gesta del Buddha capitolo 14 94 scrive commentando il momento immediatamente successivo a questa realizzazione spirituale o intellettuale che sia allora per sette giorni libero da malessere del corpo egli sedette contemplando e questo è molto interessante per quello che l'ho messo la propria mente perché questo è l'oggetto principale cioè la vera meditazione nella sua fase più alta è una meditazione ormai riguardante la mente o parti particolari della mente e la contemplazione che va al di là della meditazione stessa è uno sprofondare in strati molto profondi della mente fino a che addirittura è solo quella che resta ma sto anche troppo anticipando e i suoi occhi non amiccavano mai il saggio riflettendo che in quel sito aveva raggiunto il risveglio realizzò il desiderio del suo cuore fra l'altro quando si fa riferimento al desiderio del cuore c'è un bel libro adesso non mi ricordo di due autori italiani cuore e cervello due storici della medicina le guardo l'orologio ma io due storici della medicina che hanno documentato molto bene come nel mondo antico greco romano e non solo e nel mondo medievale mediterraneo non documentano l'Asia ma questo lo so per conto mio la sede della intelligenza e cioè della parte più alta della mente non era la scatola cranica ma il cuore questo sarebbe difficilissimo da spiegare nell'ambito di una conferenza breve come questa ma è interessante il fatto che qui si faccia appunto riferimento al desiderio del suo cuore questo è il Buddha è un'altra bellissima immagine di Gandhara che è conservata nel museo nazionale di Tokyo primo secondo secolo dopo Cristo è un Buddha già in carriera diciamo andrà a predicare i vecchi discepoli le voci si diffondono velocemente anche nella giungla o nella foresta lo raggiungono quasi subito e poi diventeranno folle immense tant'è che storicamente parlando e questo per me come storico delle religioni è fondamentale cioè una religione è poco importante sapere se il fondatore storicamente è esistito anzi è davvero secondario è poco importante tranne per i diretti interessati sapere se sono religioni giuste o sbagliate ammesso che si possa definire giusta o sbagliato una religione quello che è interessante come storico è hanno avuto un impatto nella storia del mondo e di un ambito geografico più o meno vasto del mondo stesso sì o no se l'hanno avuto beh qualche importanza in un senso o nell'altro devono pur averla avuta no? beh il buddismo certamente ha avuto un'importanza colossale e anche questa mappa diciamo che ci mostra l'area al confine con il Nepal praticamente forse all'interno del Nepal nel Terai dove viene collocata tradizionalmente la città natale del Buddha ma tutte queste identificazioni io ho fatto parte di una missione archeologica italiana in Nepal che si occupava oltre che della vallata di Kathmandu anche della eventuale riscoperta o scoperta per meglio dire della città natale del Buddha nel Terai e beh i condizionamenti politici e nazionalistici erano scandalosi sia da parte delle autorità archeologiche nepalesi che di quelle indiane e viceversa perché quello che interessa i nepalesi o gli indiani è portare di là o di qua dal confine non gliene importa nulla di tutto il resto e sono passati tanti decenni quindi posso anche dirlo in maniera morbida diciamo e troppe volte gli archeologi europei anche in altre aree dell'Asia e non solo dell'Asia e per la ragione di avere le autorizzazioni allo scavo di avere finanziamenti condivisi eccetera sono un po' diciamo pressati da queste e molte scoperte o anticipazioni di scoperte che vengono presentate che poi sulla stampa hanno grandi grande eco per chi vede le cose come nascono e come si svolgono sono o ben poca cosa o addirittura quasi nulla sull'estensione del buddismo che arriva ovviamente in tutta l'Asia centrale fino alla Mongolia fino alla Siberia meridionale orientale fino ovviamente al Giappone sud-est asiatico qui non viene neanche rappresentata bene la parte malese indonesiana ma quello che mi interessa di più dirvi è che arriva fino a Alessandria ed Egitto e arriva addirittura fino ai paesi baltici con l'ondata Gengis Kanide noi abbiamo monasteri buddhisti del buddismo maayana e forse anche vajrayana nell'area baltica fino al XIX secolo cioè fino all'800 con influenze incredibili è una storia estremamente estremamente complessa per quel che riguarda il buddismo ad Alessandria ed Egitto è stato studiato soprattutto dalla scuola indologica francese Jean Filiossat che era anche uno storico della medicina in particolare se n'è occupato le varie scuole fino al IV secolo diciamo ma anche più in là non esiste questa definizione di piccolo veicolo l'ohinayana grande veicolo e maayana e il veicolo di diamante o fulmine a seconda di come volete tradurre il termine vagra anche perché il teravada la corrente la scuola diciamo degli anziani dei vecchi buddhisti dei compagni di merende del Buddha no? il termine di ayana è stato coniato da quelli che appartenevano alle altre due correnti in senso di contemptus insomma non dico di disprezzo ma insomma in realtà ormai sappiamo che le cose sono estremamente complesse e parlare di un buddismo delle origini che è stato uno degli sforzi dell'indologia e della buddologia fra 8 e 900 fino a pochi decenni fa è stato un errore gigantesco perché noi del buddismo dalle origini non sappiamo quasi niente cioè sappiamo solo e soprattutto quello che una serie di pregiudizi occidentali alcuni ve li ho accennati ma sono infinitamente di più hanno si sono sforzati di ricostruire come spesso avviene in questi casi in base all'immagine nostra di noi stessi e di quello che volevamo trovare e molti se ne sono appagati e certamente ancora oggi molti di quelli che diventano buddhisti soprattutto gli attori di Hollywood senza fare nomi sono ancora i figli di questo gigantesco errore del passato su questo però tornerò e su una cosa voglio dire subito perché quando anche i lustri colleghi definiscono il buddismo una religione atea ricordandomi ricordandoci che non vi è l'idea di un dio creatore a cui si si rivolge con culto con devozione eccetera e questo è verissimo però il pantheon del buddismo soprattutto non tanto quello teravada ma mayana e vajrayana è un pantheon gigantesco perché include anche tutti i bodhisattva i buddha adibuddha eccetera eccetera questa è guanin che è una la forma femminile del bodhisattva avalokiteshvara in una scultura a linea del vietnam della metà del diciassettesimo secolo fatta molto carina ha almeno dieci teste e mille braccia ma può averne anche di più nei tempi giapponesi vi trovate degli esempi veramente interessanti e suggestivi questo invece è la parte centrale è il mandala di una tanca tibetana e anche qui vedete figure varie forme del Buddha e delle sue proiezioni esterne e c'è da dire subito una cosa che per qualunque buddista anche della scuola esoterica che è quella vajrayana viene definita la scuola esoterica ed è giusto anche definirla così anche se il buddismo è un po' tutto esoterico perché è poco religioso ma su questo mi soffermerò più avanti c'è da dire che anche per il più abituato a visualizzare e a far uso e a appoggiarsi ad immagini così ricche e così cariche di elementi visivi e simbolici vi è sempre la consapevolezza che sono vuote la teoria del vuoto inerente a qualunque cosa che esista per il buddista è fondamentale dalle origini ad oggi ovunque esso sia ancora presente dal tibet alla cina al giappone alla mongolia e altre parti del mondo quindi così come nessun essere senziente veramente è ma è in realtà vuoto quindi è nulla così l'idea anzi il buddha dice quasi a maggior ragione perché ho già accennato l'importanza della mente e dell'intelligenza ed è un'importanza estrema posso anticipare che secondo quello che ci è rimasto nel canone pali ma che poi è stato ampiamente sviluppato anche dopo e gli dei tutti gli dei di questo pantheon immenso che poi è il pantheon dell'induismo che il buddismo carica di altre figure divine ma conserva praticamente intatto pensate che anche nell'arte del Gandhara che abbiamo appena visto buddista il buddha a volte è accompagnato da figure da deva hindu tipo Vajrapani che è quello che tiene il Vajra tiene il fulmine che è appunto importantissimo nella simbologia buddista e il buddha stesso dice ma gli dei se proprio volete quelli dell'induismo ancora quando lui era eventualmente vivo potete benissimo venerarli anche celebrare riti ma sappiate che sono vuoti perché sono vuoti sono vuoti perché la loro intelligenza non è così sviluppata come può essere sviluppata in un buddha ci sarebbero dei paralleli interessanti con una religione abranica su questo dove è previsto che gli angeli si chinino in forma di rispetto verso Adamo perché Adamo può più degli angeli stessi ma anche questo ci porterebbe molto lontano quindi Panto un hindu conservato tutto già dal buddha stesso e persino nel teravada detto inayana dai suoi avversari diciamo dai suoi nemici dialettici fra virgolette diciamo così anche nel teravada ci può essere benissimo chi ancora è devoto a figure del pantheon hindu o varianti del pantheon locale perché una delle bellezze del buddismo e di altre religioni di tutte le religioni dell'Asia è che danno una grandissima libertà ai loro fedeli nella conservazione dei culti anche locali sembra incredibile ma è così non c'è dogmatismo da questo punto di vista perché non sono religioni ecco vedete non è una filosofia non è propriamente una forma dell'ateismo o del materialismo e non è neanche una religione nel senso nostro assolutamente non lo è ma è difficile arrivare a capirlo adesso proviamo a avvicinarci un po' di più perché il tema nostro è quello dell'ateismo ed è lì che voglio andare anche a concludere cos'è l'apofatismo è tutto ciò che riguarda nelle diverse forme religiose il parlare il definire Dio il divino in termini non affermativi ma negativi come voi sapete c'è anche nel cristianesimo una teologia catafatica che è quella prevalente in cui si parla degli attributi e degli aspetti e dei nomi positivi del divino di Dio eccetera eccetera e invece c'è anche una teologia apofatica minoritaria ma importantissima e faccio notare importantissima nell'ambito della mistica cristiana e quando parliamo di mistica ci stiamo avvicinando di più a che cos'è il buddismo delle origini ma anche quello contemporaneo non è una religione è una mistica anche il termine mistica è di quelli che noi occidentali abbiamo talmente abusato e deformato che ormai applicato a religioni dell'Asia in particolare al buddismo rende pochissimo l'idea per varie ragioni che non posso qui approfondire ma proseguiamo con ordine allora nella teologia in qualunque teologia apofatica non si parla mai di Dio e qui stiamo parlando dell'aspetto supremo di Dio dell'infinito del principio primo del creatore eventualmente nell'ambito delle religioni abbramiche non certo di quelle dell'Asia che non hanno neanche l'idea e il concetto di creazione il nome non si usa questo lo sappiamo anche in ambito cinese per esempio il Tao che è un nome non è il Tao quindi mai nominare in Asia l'aspetto più alto del divino mai non si può nominare non si può nominare perché non ha senso non ha nome il nome è squisitamente individuale eventualmente personale ma appunto connotativo di un limite chiaro di un'identità chiara si possono usare solo queste espressioni qui essenzialmente ma sono in pratica tutte le principali vuoto oscurità silenzio e in definitiva nulla quindi non si può dire nulla del principio più alto perché è addirittura offensivo da un punto di vista deontologico dell'approccio al divino è offensivo del divino nel suo aspetto più alto è fuorviante perché ne dà con l'illusione o la presunzione di insegnarne qualcosa un aspetto magari anche minimo non insegna nulla anzi insegna il contrario di quello che è quindi già nelle Upanishad è difficile sapere il rapporto cronologico dell'eventuale opera e biografia del Buddha con lo sviluppo delle Upanishad gli studi più recenti tendono a dire che almeno un cento anni prima della sua nascita forse di più abbiamo già le prime Upanishad e una cosa è certa che la Brihada Ranyaka Upanishad in qualche modo è citata più volte dal Buddha nel Cano Nepali o perlomeno chi ha compilato il Cano Nepali e non sappiamo neanche bene quando riporta in un modo o nell'altro ma neanche tanto modificandoli addirittura dei passi della Brihada Ranyaka Upanishad che è una delle Upanishad più belle e più interessanti qui non tutti sanno cosa sono le Upanishad comunque sono dei testi sono la parte finale del Veda quella dedicata all'attività appunto alla quale ho accennato meditativa e contemplativa quindi alla liberazione e il divino in questo Upanishad è neti neti non si può dire nulla se non per via negazioni appunto non si può non si può definirlo il vuoto cominciamo dal vuoto che forse è il più semplice ed è anche quello su cui molti studiosi o clientali si sono soffermati anche qui da noi estetica del vuoto di Gian Giorgio Pasqualotto per esempio è una delle tematiche più sviluppate anche gli storici o gli studiosi dell'architettura ad esempio giapponese gli spazi l'importanza che hanno i vuoti nei templi anche nelle semplici dimore o nelle dimore anche regali e principesche ma questo è un discorso che ci porterebbe lontano comunque sul vuoto ci si è soffermati parecchio questa è una mudra sono dei sigilli fatti con le mani questo soprattutto indù ed è quello della conoscenza quando uno realizza congiunge pollice e indice alla stessa modo del lenso che è quel cerchio che nello zen giapponese chi è dedito all'arte della calligrafia che è una delle vie dello zen o anche non necessariamente dedito ad essa ma comunque lo usa come esercizio spirituale beh per farvela breve insomma molti ancora oggi in Giappone monaci o laici ogni giorno disegnano disegnano col pennello calligraficamente su un bel foglio bianco di carta di riso un bel cerchio non come giotto perché quasi nessuno lo chiude e anche qui c'è la differenza fra occidente e oriente perché il disegno di giotto è perfetto ed è un cerchio chiuso l'occidentale se non si ingabbia non è contento non riesce a ferrare deve racchiuderlo il reale se no non è più razionale e invece l'asiatico con eleganza estrema lascia aperto alcuni chiudono ma questo ha un altro significato in genere ha questo significato e cioè solo chi ha realizzato può consentirsi il lusso di chiudere è andato oltre quindi chiude per se stesso ma in realtà resta sempre aperto in giapponese significa cerchio ma significa anche vuoto appunto e illuminazione voi vi chiedete ma come mai indica anche l'illuminazione e beh alla fine cercherò di spiegarlo perché non è molto facile anzi è molto è molto difficile qui vediamo appunto Solerte monaco giapponese sta facendo il suo enso quotidiano arrivano alcuni a farne diverse centinaia al giorno è importante farlo con la propria impronta come dire calligrafica no ogni enso è diverso e ogni enso fatto da un singolo individuo è diverso dai precedenti e dai successivi e questo è fondamentale per capire un concetto che anche questo casomai accenerò alla fine veniamo invece al silenzio mauna si dice in sanscritto il silenzio è fondamentale perché quell'esercizio di meditazione tramite il respiro va fatto in assoluto silenzio non solo personale ma possibilmente anche scegliendo un luogo una foresta una casa una stanza isolata quindi più si è nel silenzio meglio è perlomeno all'inizio perché chi arriva a capacità di astrazione potente anzi va a cercare le folle il caos addirittura il campo di battaglia solo lì trova la concentrazione perfetta mi viene in mente ma non c'entra nulla una delle forme della mistica cristiana è la preghiera del cuore la qualità filocalia per chi conosce queste cose era praticata anche da principi del parlamento di bisanzio e una volta il basileus vide uno che stava sprofondando in un sonno profondo senza ascoltarlo e dice ma cosa stai facendo sto praticando la preghiera silenziosa basta massimo rispetto questo è un maestro Chan lo Chan è l'antenato cinese dello Zen giapponese ma in buona sostanza è quasi la stessa cosa scrive lui vive fra il 638 e il 713 e ab inizio ovviamente qui è il traduttore nessuna cosa è nessuna cosa quindi neanche il principio è perché se fosse sarebbe creato tutto ciò che esiste che è sto usando termini occidentali teologici cristiani per farmi capire perché il problema vero è questo e noi non ce ne andiamo conto nelle facoltà di orientalistica ma anche dove si insegna storia e religioni la prima cosa che dovrebbero insegnare è la impossibilità linguistica di capire queste cose e quindi bisognerebbe dedicare un intero anno ma più anni alla problematizzazione della comprensione linguistica di queste cose solo dopo che si è in qualche modo capito che è difficile se non è impossibile si comincia a esporre ma chi riceve sa che sta ricevendo poca cosa insomma qualcosina niente niente di più ogni tanto faccio un richiamo all'occidente appunto per farmi capire perché è inutile fare tanto gli esclusivi e chiudersi la comunicazione è fondamentale nella vita questo anche il Buddha lo capiva benissimo e per farsi capire però bisogna adottare il linguaggio di chi ci ascolta quindi anche il linguaggio filosofico occidentale può aiutarci e qui cito Georg Hegel che nelle prime pagine della sua scienza della logica afferma e questo è molto interessante che l'essere il puro essere escludendo da sé ogni determinazione e queste sono parole sue invece è la pura indeterminazione il puro vuoto e che quindi ancora parola sua è né più né meno che nulla bellissimo davvero eccezionale d'altra parte non è un caso storicamente facciamo pure gli storicisti anche in questo caso qui e beh Hegel si era nutrito di letture orientalistiche e indologiche perché era l'epoca la sua dell'inizio della grande divulgazione in area anglosassone in area francese ma anche in area germanica delle prime importanti traduzioni di testi indologici di testi indiani e quindi certamente tiene presente la tradizione dell'occidente ma anche quella dell'Asia e non a caso ancora oggi ma questo ormai da quasi non dico un secolo ma certamente 70 forse anche di più anni gli studenti giapponesi vengono a studiare filosofia in Europa centrale perché sentono aria di casa e viceversa ma sarebbe un discorso anche questo ci porterebbe molto molto lontano sempre per restare in ambito della mistica cristiana in questo caso voi sapete che quando San Paolo persecutore feroce in quanto ebreo cooptato dai romani e dei cristiani quando cade da cavallo affolgorato sul rexit recit negli atti degli apostoli 9-8 sul rexit autem paulus de terra apertisque oculis nihil videbat beh la traduzione nostra normale religiosa dice che Paolo si alzò da terra e con gli occhi aperti non vide nulla no è talmente semplice no un testo sacro è semplice dice quello che dice no tra te che ormai gli si fa dire anche quello che non avrebbe mai voluto dire ma questo è un altro discorso e Meister Eckert che è un mistico dominicano del XIII secolo che avrà dei problemi con l'inquisizione ma poi riuscirà a farla franca calcheranno la mano dopo che lui è morto ma ormai non gliene importava più nulla per fortuna grandissimo Eckert insegnava la sorbona tanto per intenderci si permette da mistico di tradurre alla sua maniera e ha tradotto Eckert Paolo si alzò da terra e con gli occhi aperti vide il nulla cioè vide Dio e questa è la cosa interessante questo è un mistico cristiano medievale ah già ma il medioevo è l'età oscura dell'assoluta imbecillità incomprensione beh voi sapete che esistono degli studi comparativi fra la mistica di Eckert e quella indiana in particolare in Germania Rudolf Otto a suo tempo fece uno studio a riguardo ma anche questo ci porterebbe lontani e ci interessa invece di più perché sembra contraddire tutto quello che ho detto e ancora di più quello che dirò andando verso la conclusione questo New Tu Farong maestro Chan fra il 5.94 e il 6.57 ha scritto in uno dei suoi testi non c'è né spirito mente perché in realtà il termine cinese qui indica la mente quindi non c'è né mente né Buddha beh allora di cosa abbiamo parlato di nulla tenete conto che nello Zen che è figlio del Chan c'è il famoso Adagio se incontri il Buddha per la strada uccidilo oppure c'è l'esempio di chi ha freddo in una giornata piovosa entra in un tempio abbandonato ci sono delle immagini di legno scolpito del Buddha le fa a pezzi con l'acchietta e si scalda e quando poi va a dire ho commesso un'empietà non hai fatto benissimo anzi hai capito tutto è davvero cioè nell'ambito di una forma come il buddismo che non è è una religione non è non è una filosofia non è una forma dell'ateismo così come lo conosciamo in occidente anche se vedremo che si avvicina moltissimo molto più di quello che pensano persino gli storici delle religioni nostrani però però cosa fa appunto Niu Tu Farong sta esercitando l'arte un po' della dissimulazione e al tempo stesso fa il più realista del re e cioè dice nulla c'è perché tutto è vuoto anche il Buddha è vuoto ha ragione ma infatti se fosse stato per il Buddha altro che religione sono sempre i seguaci a distanza di un secolo o due è successo così anche al cristianesimo che decidono di fare di una bella interessante via realizzativa una religione perché le masse hanno bisogno di un culto anche perché ha una funzione sociale politica io faccio il geopolitico delle religioni proprio perché mi interessa moltissimo l'applicazione politica anzi fondamentale la vera politica è quella il resto è solo niente quello che lui vuol dire è giustissimo quindi Buddha se deve essere ipostatizzato diventare anche un Adi Buddha o un Bodhisattva e quindi oggetto di culto per carità siamo proprio lontanissimi da quello che il Buddha delle origini se mai esistito intendeva dire quindi Buddha fuori spirito fuori perché nulla trasmigra già a seconda la dottrina del Buddha quindi non c'è neanche un'anima individuale che trasmigri o uno spirito la mente ma si ho appena detto che tutto si gioca nella mente e nell'intelligenza e beh anche quella è vuota e in effetti vedete uno degli sforzi di apprendimento più difficili per i discepoli l'ho acceso questo qua si sente? si si sente chiedo scusa dei discepoli dei monasteri tibetani o giapponesi eccetera è quello di imparare tutte le differenze che c'è fra un tipo di mente e un tipo di intelletto e un altro sono livelli diversissimi come le scatole cinesi uno dentro l'altro e ci vogliono anni e anni in certi casi decenni e molte volte non ci si arriva perché si c'è per carità e si butta via tutto e si torna indietro un po' come San Giovanni della Croccia la notte oscura dell'anima ma adesso sto dicendo una scemenza perché la notte oscura dell'anima rientra in quella teologia apofatica di cui appunto stavo parlandovi e quindi la mente di cui parla questo maestro Chan è un tipo di mente un tipo di intelligenza di quelli ancora passi anche quelli sono tutti vuoti e vanno eliminati in particolare la mente razionale che è la peggiore di tutti non per me ma per i buddhisti siccome adesso vi sto esponendo il punto di vista dei buddhisti devo dirlo per forza allora io amo tradurre Buddha così come l'abitudine la consuetudine con lo studio non solo del buddismo certamente ma anche del buddismo mi ha insegnato il termine sanscrito buddi non indica l'illuminazione ma indica l'intelletto ora per noi occidentali capire la differenza fra intelletto e mente è praticamente impossibile cioè per noi è sinonimo anzi è un termine arcaico che non aiuta per nulla e non aiuta per nulla soprattutto per il fatto che è stato molto usato e molto studiato dal pensiero teologico medievale la Quinate Alberto Magno ed intorni Meister Eichert che ho appena citato e tantissimi altri poi ci sono gli arabi c'è l'averoismo radicale Ibn Rushd o Ibn Rushd che dir si voglia no però tutte aberrazioni teologico metafisiche quindi l'intelletto l'intelletto non si capisce qual è questo intelletto è la ragione è la razio solo quella c'è no non c'è altro comunque Buddha vuol dire l'intelligente quindi non è l'illuminato il risvegliato no è una cosa importantissima questa da capire perché se non la si capisce del buddismo ci si potrà occupare per decenni girandoci attorno senza entrare mai in quello che è essenzialmente è l'esercizio estremamente raffinato dell'intelligenza è l'arte dell'intelligenza quindi Buddha è l'intelligente il suo risveglio sotto l'albero non ha visto certamente né Mara né le figlie più o meno lubriche di Mara né i demoni senza testa o con la coda e gli artigli ha visto solamente il Buddha impegnato con la sua mente inizialmente o la sua mente poi con l'intelletto e alla fine con l'intelligenza intesa nel senso in cui le intendevano beh visto che siamo italiani nei dintorni della Toscana qualcuno come Dante Alighieri Guido Cavalcanti per esempio noi sappiamo che c'è un libro della Corti molto bello sulla felicità mentale no è curiosa questa cosa qua perché la felicità mentale traduce quasi dei termini del canone del canone buddista nelle sue varie forme ma questo ci porterebbe lontanissimo e non possiamo farlo in questa sede allora abbiamo parlato della via apofatica ma sembrerebbe quasi farci capire che sì davvero il buddismo va al di là addirittura del materialismo perché secondo il buddismo nulla esiste non esiste neanche Dio non esistono gli dei però c'è un maestro giapponese Joshu fra il 778 e l'897 il quale questi sono quelle riportate ovviamente in antologie di testi ageografici giapponesi chiese un giorno a un suo discepolo cosa sei e il discepolo rispose sono in meditazione non è ancora la contemplazione è la fase nello stato del nulla presuntosetto il giovane ma comunque e dunque non sono nulla il maestro Joshu allora gli disse devi abbandonare il pensiero di non essere nulla devi abbandonare i tuoi pensieri è un pensiero sbagliato e uno in genere quelli che traducono queste cose sono assolutamente penosi io ho sofferto per anni leggendo le traduzioni o i commenti di questi testi chiedendomi se i giapponesi erano degli imbecilli o erano imbecilli chi li traduceva per fortuna un po' alla volta ho capito chi era l'imbecilli e quindi ormai non ci casco più perché quello che in genere si dice è che è talmente contorto il punto di vista dello zen che afferma tutto e anche il contrario di tutto quindi in realtà non afferma niente dove poi ci sia da capire qualcosa arriva la bastonata del maestro sulla spalla o la sberla o il pugno o lo scuotimento e lì uno si illumina e capisce naturalmente l'intenzione di chi scrive queste cose è fortemente denigratoria e demolitoria delle stesse vuole dirci che non c'è niente invece è estremamente raffinato quello che dice qui il giapponese Joshua dice che non devi pensare di essere nulla perché se pensi di essere nulla non hai capito niente il Buddha ha capito di essere intelligente e non di essere nulla e l'intelligenza è una cosa completamente diversa ma difficile difficile da capire questa è una statua coreana di Mahavai Roshana che è la ipostasi divina del concetto buddista di vuoto di vacuità e manifesta questa sua natura tramite una mudra che è questa qui praticamente scusate dito della mano sinistra indice pugno della mano destra chiuso attorno e fratto il pugno in tutte le vie del buddismo in particolare quelle cinese ha un'importanza immensa perché il pugno poi costituisce il punto di partenza dell'arte marziale dello Shaolin cioè dell'arte della box cinese quella della rivolta dei boxer contro le missioni le ambasciate occidentali a Pechino fecero vedere i sorsi verdi agli americani agli europei allora e forse si ripeterà l'occasione di qui a breve ma a prescindere da questo scusate il geopolitico a volte riaffiora in me comunque la mudra di per sé del pugno chiuso è il segreto tant'è vero che il buddha del segreto ha questa mudra qui il pugno chiuso non chiedetemi come mai poi nelle vie strane anche del marxismo e del comunismo in Europa e nelle Americhe il pugno chiuso è diventato un simbolo politico no? ma le vie di queste cose sono strane e sono più profonde e più complesse di quello che uno può credere in realtà rappresenta il segreto perché allora il pugno chiuso è l'equivalente di quello che abbiamo già visto e cioè del lenso del cerchio perché in effetti fa la stessa cosa no? fra l'altro chiuso e non chiuso perché in realtà resta un po' aperto no? rappresenta l'intera manifestazione come vuoto no? perché dentro è vuoto il pugno è vuoto tant'è vero che anche un pugno di arte marziale non deve essere come i pugni nostri ma deve essere molto rilassato molto deve lasciare diciamo in qualche modo spazio al suo interno per essere per essere efficace e allora il segreto che cos'è? il segreto è proprio dentro al pugno perché il vuoto non è quello che in genere uno pensa e cioè il vuoto dentro la mano il vuoto è la mano chiusa a pugno che forma appunto un cerchio con dentro certo ancora del vuoto ma quel vuoto non è vuoto nel lenso questo non è esplicito perché richiede l'insegnamento orale l'apprendimento di queste cose bisogna stare anni nei monasteri e cominciano a insegnarti qualcosa se no si vedono che non capisci niente e tu dici io ho capito questo e dico sì perfetto è proprio così e ti manda via con le buone o con le cattive ospitalità asiatica allora quello che rappresenta il dito indice dentro è l'intelligenza e anche all'interno del cerchio del lenso quella parte che era chiusa è l'intelligenza quindi fra l'altro l'intelligenza non è qualcosa di individuale è qualcosa di universale cioè l'intelligenza è l'elemento elemento è la natura eterna della realtà secondo il buddismo cioè la realtà è intelligente e siccome l'intelligenza è universale tant'è che l'intelletto è un tempo pensate che che rozzi che erano greci latini arabi cristiani medievali eccetera ritenendo che la razio la mente quella propriamente detta bassa razio vuol dire dividere no? la razio è quella che ti consente di usare i numeri e di disegnare le figure geometriche di contare le persone o i soldati nell'esercito no? di dedurre delle cose e di formulare il sillogismo eccetera ma l'intelletto è quello che ti fa attingere i cosiddetti universali no? le idee eterne o i suoi equivalenti quindi è qualcosa di molto di molto più profondo e la cosa più importante di tutti è che mentre la razio è squisitamente individuale perché per varie ragioni ogni individuo ha le sue idiosincrasie nel suo mentale nella sua ragione presunta ragionevolezza tant'è che qualche psicologo o psichiatra dice che non c'è la sanità assoluta no? e non ha tutti i torti ognuno ha degli elementi di turbativa diciamo più o meno tenue e invece l'intelligenza per sua natura non è mai l'apprendimento di qualcosa neanche delle idee eterne neanche di quelle perché anche quelle sono in qualche modo distinte l'intelligenza nel suo atto supremo è solo conoscenza di se stessa cioè l'intelligenza conosce se stessa è una cosa straordinaria che spiega se la si approfondisse dal punto di vista anche della fenomenologia religiosa quelle che sono le esperienze della mistica anche occidentale oltre che quella orientale c'è una bellissima verso di Dante che purtroppo non ricordo mai a memoria o luce beata anche qui la beatitudine che sola in te sidi sola te eccetera eccetera qui fra l'altro si potrebbero citare dei testi interessanti anche dell'induismo ma noi restiamo nel buddismo comunque l'intelligenza è essenzialmente autocomprensione di sé è atto puro nel senso aristotelico del termine cioè atto di pura intelligenza che quindi non ha oggetto e non ha svolgimento temporale è istantaneo è fulmineo no? è un istante atemporale quindi per definizione è una accomprensione ma è difficile capire in che senso lo sia ebbene una premessa questo è Peter Harvey è un buddologo anglosassone se non ricordo male statunitense facciamo un passetto indietro siamo ancora col Buddha che sta respirando e poi arriva nelle fasi di contemplazione il quarto jana vi ho detto che c'è una gerarchia di stati di contemplazione piuttosto complessa ma non ci interessa adesso indagarla è uno stato di profonda quiete e tranquillità in cui la mente riposa in inamovibile concentrazione ed equanimità e il respiro si calma è già quasi scomparso sino quasi a fermarsi perché è superata la fase della meditazione la mente ha una sfolgorante purezza perché il brillante fulgore è virgolettato perché dai testi pali delle sue profondità è stato scoperto e portato in superficie la mente allora è detta duttile e lavorabile come oro puro cioè la si può manipolare in qualche modo che può essere usato per creare ogni tipo e vabbè di cose eccetera è quindi un punto di partenza conclude Harvey ideale per vari sviluppi ulteriori pare essere realmente lui lo mette come ipotesi se avesse letto un po' di più saprebbe che è così lo stato da cui il Buddha procedette verso l'ottenimento della illuminazione quindi il lavoro è sulla mente ma nelle sue parti più alte sull'intelletto e poi sull'atto intellettivo puro che naturalmente però è un po' difficile da cogliere e l'atto intellettivo puro ripeto è unico per tutti ed è per quello che i buddhisti danno pochi è mai esistito il nostro Buddha e che importanza ha ce ne sono stati infiniti prima ce ne saranno infiniti dopo ogni volta che un uomo riscopre le parti superiori della sua mente e l'intelligenza come atto puro e beh riscopre la buddità l'addi Buddha è eterno in questo senso qui non in un senso religioso ed evozionale allora questa è una una di quelle stampe che colleziono anch'io tibetana sono delle xilografie che rappresenta il Buddha aniconicamente ancora oggi d'altra parte nelle scuole del Vajrayana tibetano è fondamentale tutto quello che riguarda solo la mente il lamaismo tibetano è a livelli per noi quasi incredibili bellissimo perché è proprio è buddismo delle origini puro paradossalmente anche se ha un pantheon ma quel pantheon lì serve a depistare chi non capisce chi non capisce queste cose come storico in termini di cultura e non in altri termini allora il Buddha qui è rappresentato come il Vajra o Dorge in tibetano è la stilizzazione del fulmine perché perché è detto che la illuminazione del Buddha è stata istantanea come l'esplosione di un fulmine quindi è durata solo un istante ma questo è per dire in realtà dura prolungatamente ma nella sua natura essenziale non è esperienza di una durata questo è il punto è difficile per noi ma com'è possibile noi abbiamo solo esperienze di durata non è del tutto vero questo perché i stati alterati di coscienza anche per ragioni di patologie o di anestesie per esempio voi sapete uno si risveglia da un da un'anestesia ha la sensazione che non ci sia stato nulla tra il momento precedente la fine dello stato di coscienza e il momento in cui si risveglia e non serva memoria in genere salve casi particolari di quello che è successo questa intelligenza pura che è assiale come l'albero della body è per quello che l'albero della body viene spesso rappresentato come simbolo aniconico del Buddha perché è il raggio di luce dell'intelligenza quindi questo è il raggio verticale sorretto da un trono che non è più un trono ma è un lotto naturale sono infinitamente grato all'amico Albertini per aver scelto quella che per lui era l'immagine meno impegnativa e coinvolgente e in effetti è proprio il buddismo nella sua natura essenziale è un loto è sopra un lago qualsiasi sopra una superficie d'acqua poi spiegherò meglio perché vedete lo stelo che affiora da sotto è difficile vederlo perché ha una superficie piuttosto ampia e poi c'è questa vabbè questa sorta di 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 prava mandala si dice in sanscrito comunque c'è una cornice che lo ne denota la natura alta spirituale divina e anche nobiliare in certo senso i termini sempre spirituali questa appunto è l'immagine originale che è stata usata che ho ripescato perché l'ho trovata molto carina mi piace e questo invece è il loto dai mille petali o diecimila è Sasrara nello yoga hindu ci sono vari centri sottili l'ultimo che è quello della parte superiore del cranio è un loto gigantesco di mille o diecimila petali bianchi perché perché in realtà il loto anche quello che vediamo qui è la mente è la mente del Buddha è la mente che si apre illumina e non si aprirebbe se non fosse toccata da un raggio verticale del sole il raggio del sole la apre è la stessa cosa che fa poi il girasole il girasole addirittura lo segue sapete che a noi piace molto anche nel folclore europeo per il fatto che segue sembra quasi seguire il sole il loto invece proprio si richiude la notte infatti quando il sole non c'è più si richiude non so se avete mai visto ma le divinità portatili sia hindu che buddiste hanno dei contenitori a forma di lotti metallici con i petali che si richiudono quando poi uno viaggia arriva nell'albergo o nella casa dei parenti apre il loto e fa la sua puja all'immaginetta e poi la richiude eccetera eccetera è la stessa lo stesso tutte le divinità hindu e buddiste se fate caso sono sopra un loto tutte perché sono vuote anche per gli hindu sono raggi di luce semplicemente che servono come appoggio non alla contemplazione ma alla meditazione nelle sue fasi preliminari che hanno bisogno di un supporto sono i famosi fantasmata in cui parla la filosofia occidentale ma anche questo rileggetevi a gambin stanze e troverete le cose eccezionali a questo riguardo ma il corpo del loto è sotto allora il loto ha una radice immersa nella melma nel fango in questo putrido acquitrino o pozzanghera non è fanda e dal fango questa radice deve aspettare del tempo per salire su su col suo stelo nell'oscurità e quando dall'oscurità arriva alla luce sboccia e diventa un loto e la stessa cosa di quello che è descritto nell'ohata yoga hindu ma anche nelle forme dello yoga buddista soprattutto vajrayani quindi tibetano nello shingon giapponese ma si potrebbe andare a fare tantissimi ma quello che è essenziale è che anche così come il cosmo ma in questo caso ci interessa l'uomo l'uomo normale è come una pianta di loto con le sue radici nel fango è uno stelo che quasi mai raggiunge la superficie perché se la raggiungesse non sarebbe più immerso nel mondo che è il vuoto è il vero vuoto andrebbe dove c'è solo la luce e questa luce gli aprirebbe la mente e gliela aprirebbe non con la comprensione di infinite idee o di infiniti principi o di infinite divinità o infiniti angeli no signore di una sola luminosa percezione auto percezione di sé questo poi è fondamentale è un'auto percezione di sé ma di sé è un ateismo o è qualcosa di diverso è difficile dirlo ma io non ho finito volevo aggiungere questo che il termine vagera si traduce anche con diamante infatti si dice che la mente è come un diamante è nella tradizione buddista ma non solo quella un diamante che riflette tutti gli esseri lienti del vuoto circostante quindi il vuoto si riflette come immagini riflessi nel diamante che però di per sé resta della sua natura trasparente è assolutamente perspicua e non ma chi lo guarda in superficie vede riflessi tutte le cose se noi lo portassimo in giro può essere anche una sfera di cristallo di cristallo comune riflette tutte le cose questo è il principio anche della divinazione tradizionale ma noi entriamo in bassi domini che però non sono quelli tanto bassi come può sembrare e quello che è interessante è appunto che la natura del diamante è la natura della mente quindi la mente di per sé è trasparente oltre che luminosa è del tutto trasparente quindi non c'è niente dentro nelle gemme ovviamente ci sono le imperfezioni che poi sono per i gioiellieri a volte motivo anzi di pregio ma quello che è curioso è che poi il resto del vuoto in esso si riflette e torniamo al lenso e forse abbiamo capito cioè non abbiamo capito niente ma è interessante capire una cosa e c'è una cosa che ogni giorno quando quel cretino di Monaco giapponese fa il suo ennesimo cerchio cosa perfettamente inutile perché non sarà mai bravo come giotto e noi ce ne compiacchiamo perché il giotto si faceva un cerchio perfetto e lo chiudeva e questo non lo chiude quasi mai sta racchiudendo nel vuoto che già c'è comunque ma diventa un vuoto di cui è consapevole che lui stesso in qualche modo controlla racchiude cosa? l'intelligenza l'intelligenza di chi? del cosmo? del Buddha? no la sua che ogni giorno in ogni momento è diversa poi perché purtroppo o per fortuna perché in realtà per il buddismo signori miei non c'è questo contemptus mundi che noi pensiamo come non c'è nell'induismo l'espressione più bella scusate se ve l'ho fatta lunga ma sto veramente finendo a me piace tanto il Giappone a questo punto di vista che parla di mondo fluttuante e il mondo fluttuante è tutto il mondo esterno qui noi nella stanza fuori e meglio ancora se nel tumulto e nella Kurosawa ce l'ha insegnato nelle battaglie addirittura c'è quella scena di Kagemusha in cui mi pare che sia Kagemusha o Rana adesso non mi ricordo c'è il cieco che non riesce a vedere nulla ma ha sempre una bellissima immagine di Avalo Kiteshvara di cui vi ho mostrato la versione femminile e nel pieno è la battaglia quando sta per precipitare da una roccia perché è abbandonato da chi lo accompagna e destinato a sfracellarsi ma l'ultima cosa che succede è questo rotolo con un'immagine lunghissima di Avalo Kiteshvara si srotola dalla cima del picco e nel cuore della battaglia che ormai è notturna ed è una carneficina si srotola a mostrare Avalo Kiteshvara è la funzione della misericordia divina perché in realtà per il buddista il mondo fluttuante non è il mondo del vuoto da abbandonare e da negare no è addirittura lo scopo dell'illuminazione è lo scopo della liberazione ma anche per l'induismo è così tutti pensano a questi hinduisti a questi buddisti non vedono l'ora di farla finita andarsene chissà dove forse nel nulla nel vuoto pazzesco veramente no no loro amano il mondo infatti quando realizzano anche il Buddha tornano nel mondo anzi si immerge prima che si isolava nella foresta no cerca le masse cerca le moltitudini va a predicare nel parco di Sarnath gira si fa tutte le città dell'India campa ancora un 35 quanti un 45 anni predicando e poi muore come muoiono tutti ma è il mondo il piacere spirituale più grande quindi proprio il mondo materiale quindi altro che materialismo questo è super materialismo è desiderio cupido e fortissimo del godimento del mondo solo che il mondo si può godere in tanti modi ho parlato del loto e quindi faccio pubblicità scusate ma ogni tanto bisogna farsi non ci guagno nulla perché sono stato già pagato come traduttore è comunque uscito per Adelphi nella colana del ramo d'oro da circa un mese il germe d'oro che è uno studio di Frederick Bosch indologo olandese scritto nel 47 il germe d'oro un'introduzione al simbolismo indiano è dedicato al 90% al simbolismo del loto nell'arte buddista e induista soprattutto di Java e comunque soprattutto nell'area indonesiana anche se non solo ed è dice migliaia di altre cose che io non ho detto ma che sono strettamente connesse al fatto che il loto è davvero il simbolo della mente e il simbolo dell'intelligenza e di una religione di una filosofia di una mistica di una via realizzativa quello che volete che da secoli arricchisce la cultura dell'Asia e forse del mondo grazie io ringrazio moltissimo il professor Gossato dell'elezione che ci ha fatto e che mi ha lasciato senza parole perché veramente mi ha immerso e mi ha interessato in un mondo per me assolutamente nuovo penso che questa presentazione si possa considerare forse una prima di successive e prossime occasioni di incontro grazie a tutti Grazie a tutti.